La questione dei lavoratori della Smea, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti e non solo, si è deteriorata fino ad arrivare allo strappo definitivo dello sciopero proclamato per sabato 2 aprile. Per i rappresentanti sindacali sono stati disattesi gli accordi sottoscritti dal sindaco in comune il 17 novembre 2010 e che dovevano essere parte integrante della trattativa con il Cosmari. Accordi che definivano in quattro punti la salvaguardia delle condizioni lavorative del personale, ma il sindaco sembra averli già dimenticati. Il modello organizzativo della Smea che sta adottando in questa fase di raccolta differenziata, che costa di meno di quello del Cosmari, non sia richiesto come garanzia in questa fase di vendita da continuare ad applicare per la Smea di Macerata. Cioè non è parte della discussione tra Cosmari e comune di Macerata rispetto a quale modello organizzativo adottare. Al momento che è più pulito della raccolta porta a porta quello che sta facendo la Smea, pensiamo che possa essere un argomento di grande interesse per la città, cosa che invece non se ne discute. Nonostante da più parti si dica che la trattativa con il Cosmari per l'acquisizione della municipalizzata sia a buon punto, i lavoratori non vedono ancora la fine del tunnel. Ecco quindi che scendono in piazza per manifestare il loro disagio, nella consapevolezza che non raccogliere i rifiuti sabato recchi enorme disagio alla cittadinanza. I lavoratori sono preoccupati per il loro futuro, il loro futuro che è ancora incerto dopo due anni. Non abbiamo davanti certezze che se sa da quest'operazione Cosmari, quale potrebbe essere la prospettiva futura, la prospettiva futura è al buio e con ciò sollecitiamo che un'amministrazione comunale ci sia vicino nel tavolo di trattativa, porti avanti le questioni del personale e che si concluda in tempi rapidi. Grazie a tutti.